Associazione delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali con questa accusa eseguite nella provincia di Taranto 7 ordinanze di custodia cautelare di cui una in carcere, 5 domiciliari e un obbligo di presentazione. Il risultato dell'operazione Eagle portata a termine dalla polizia stradale di Taranto in collaborazione con il compartimento per la Puglia di Bari e le sezioni di Brindisi e Lecce avrebbero creato una rete operante su tutto il territorio ionico finalizzata a conseguire l'indennizzo delle assicurazioni attraverso la falsificazione di documenti dalle indagini supportate da intercettazioni telefoniche è emerso che la presunta associazione sarebbe stata capeggiata da due tarantini di cui uno appartenente ad un noto istituto di vigilanza il quale sfruttando la propria posizione avrebbe favorito l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale tarantino a soggetti con lesioni fisiche preesistenti per ottenere certificati medici poi utilizzati nei falsi sinistri stradali. Coinvolto anche un avvocato il quale avrebbe messo a disposizione le sue conoscenze giuridiche e avrebbe procacciato falsi testimoni perché rendessero false testimonianze. Le indagini avviate nel 2019 hanno fatto emergere il coinvolgimento di un altro appartenente allo stesso istituto di vigilanza il quale si sarebbe reso disponibile al rilascio di false dichiarazioni. Sarebbe stato usato un linguaggio criptato ricorrendo a formule dialettali come vedi tu se trovi una macchina che si vende per indicare la necessità di reperire un soggetto disponibile a denunciare falsamente lesioni preesistenti oppure il termine per la prenotazione fammi sapere 4-5 giorni prima perché devo preparare la mamma per indicare la necessità di essere avvertito in tempi utili. Nell'indagine sono state denunciate altre 54 persone coinvolte a vario titolo nei reati di truffa, falsa testimonianza dinanzi all'autorità giudiziaria, false in atto pubblico tra le quali spiccano la figura di un altro avvocato e di un cancelliere giudiziario in servizio presso il giudice di pace di Taranto. Nel corso delle indagini sono state monitorate 14 pratiche relative a falsi incidenti stradali che hanno consentito di ottenere un rilevante illecito profitto.